Il precedente intervento era stato introdotto implicitamente come last but not least e questo dovrebbe essere il contrario, least but not least, anzi addirittura first, perché in realtà io parlo di cose che hanno a che fare con ciò di cui tratterete in questo convegno, un po' alla lontana, cercherò di fare praticamente la cornice del quadro che poi voi invece dipingerete o tratteggerete poi in seguito. Io sono matematica appunto, ho insegnato per tanti anni a informatica e la ricerca che ho fatto per 40 anni era proprio sui computer, stranamente forse per qualcuno, non tanto le potenzialità dei computer che sono ben note, ma le loro limitazioni ed è proprio di questo forse che voi parlerete più estesamente poi nel seguito. Ma visto che ho parlato di quadri vorrei incominciare da questo quadro, un quadro molto bello che è stato usato come logo, diciamo così, di questo convegno e volevo ricordare, ovviamente lo sanno tutti, che è un rifacimento del quarto stato di Pellizza da Volpedo e il fatto che siamo a Torino è significativo perché la prima volta che quel quadro è stato visto, è stato meglio esposto ufficialmente, è stato nel 1902 a quella manifestazione che all'epoca si chiamava la quadriennale dell'arte, proprio qui a Torino. Tra l'altro non fu assolutamente ben accolto, ma questo è un altro problema perché quando si fanno cose durature, poi ovviamente agli inizi non si ha l'accoglienza che si vuole. Dunque, qual era il problema però che Pellizza da Volpedo cercava di rappresentare nel suo quarto stato? È significativo, è esattamente il problema contrario di quello di cui si parla quest'oggi. Cioè non tanto il problema delle macchine e del loro ruolo, ma il fatto che gli uomini stessero all'epoca diventando loro stessi come delle macchine. Infatti quarto stato era poi quello, ovviamente gli altri tre stati erano quelli della rivoluzione francese, cioè il clero, i nobili e il terzo stato che era la maggior parte della popolazione, cioè i lavoratori. Ma un secolo dopo, più di un secolo dopo della rivoluzione francese, quel quadro invece cercava di rappresentare la condizione tremenda degli uomini che non erano la borghesia che aveva preso il potere in Francia, spodestando la nobiltà, non il clero, quello è difficile spodestarlo e non ci riesce mai, ma perlomeno appunto la nobiltà. Però c'era rimasta, si era creata ormai agli inizi del novecento tutta una classe che verrà poi chiamata la classe del proletariato. E questo proletariato aveva appunto il problema, che veniva sentito tra l'altro all'epoca molto forte, di diventare esso stesso una macchina, cioè gli uomini venivano non più considerati come esseri umani, ma come ingranaggi di un meccanismo molto più grande di loro, erano parti di una macchina che era poi l'impresa. E naturalmente questo è quello che poi si fece proprio qui a Torino. Non dimentichiamoci che Torino è stata la sede ovviamente dell'industria dell'auto e quest'industria si è basata sulle idee che arrivavano dall'America, ovviamente il cosiddetto fordismo, che il senatore Agnelli, naturalmente non il senatore Gianni Agnelli, ma il nonno, aveva poi introdotto in Italia. Erano effettivamente tentativi di meccanizzazione dell'uomo. Pensate alla procedura del cronometro, la cronometrizzazione del lavoro addirittura, il fatto per l'appunto che si diventasse pezzi, macchine, ingranaggi di un'enorme impresa che lavorava e diventava la catena di montaggio. Era quello il problema che all'inizio dello scorso secolo ci si poneva. Ci si poneva per esempio in film, ricordatevi come Charlie Chaplin, credo forse negli anni 30, fece quel famoso film Tempi moderni, in cui rappresentava per l'appunto questi uomini che ormai erano diventati loro stessi come delle macchine e semplicemente come degli ingranaggi. Ovviamente il problema che è legato alla meccanizzazione del lavoro manuale era legato anche all'introduzione delle macchine. Le macchine sono state introdotte non oggi, anche se oggi il problema è leggermente diverso e ci arriviamo poi verso la fine ovviamente, è diverso perché è stato introdotto un nuovo ingrediente che è l'ingrediente del computer, della programmazione, diciamo così, del software. Ma l'hardware ovviamente è stato introdotto molto tempo prima e è alla base di quella che viene chiamata la rivoluzione industriale. Cioè dal momento in cui le macchine entrano nel lavoro e nella produzione, ovviamente molte persone incominciano a preoccuparsene. E le preoccupazioni sono esattamente analoghe a quelle di oggi. Le macchine arrivano, tolgono il lavoro a coloro che lo fanno e quindi ovviamente creeranno disoccupazione e creeranno quindi povertà per i lavoratori. Quindi problemi esattamente analoghi anche se le macchine erano un po' diverse. Quali erano le macchine di cui si parlava all'epoca? Beh, erano ovviamente quelli che oggi potremmo chiamare effettivamente robot, quelli che vediamo qui rappresentati, con la differenza che non erano macchine antropomorfe, benché avessero a volte l'antropomorfizzazione di una parte del corpo, per esempio il braccio meccanico che veniva usato ovviamente nelle catene di montaggio della Fiat e di tante altre industrie. E allora è su i robot che ci si concentra agli inizi del secolo e chi è che comincia a criticare? Beh, ovviamente coloro che sono sempre più sensibili ai problemi della società sono non soltanto gli umanisti ma spesso i letterati o i cineasti, diciamo così, coloro che fanno i film. E infatti, pensate, verso gli anni venti c'è un romanzo che si chiama Rur di uno scrittore cecoslovacco, credo, o polacco di origine, che si chiamava Čapek e questo Rur aveva delle R, l'ultima R era l'iniziale di una parola appunto in polacco che è poi diventata famosissima e che è robot. Come voi sapete robot è semplicemente una parola di estrazione slava, anche in russo robot significa semplicemente lavoro, lavoratore. I robot sono i nuovi lavoratori, coloro che sostituiscono l'uomo e diventano loro stessi i produttori. Anche qui c'è un film che caratterizza un po' questo aspetto interessante del cambiamento del lavoro, cioè il momento in cui le macchine prendono il sopravvento o perlomeno incominciano a spodestare l'uomo nella fabbrica e nel lavoro. E questo film è Metropolis e questi personaggi sembrano quasi personaggi di Metropolis, queste schiere di robot che in effetti poi invadono le strade e fanno anche loro gli sciopperi esattamente come li facevano le persone fisiche in carne ed ossa. Quindi è interessante questo logo, diciamo così, del convegno e centra effettivamente proprio il problema. Ora, che succede quando si comincia a pensare ai robot? I robot sono ancora molto nel futuro, ci sono soltanto appunto nella letteratura, nella prima parte del Novecento e nella cinematografia, però ci sono alcuni letterati, in particolare Asimov, che tutti voi conoscete ovviamente, che ha scritto decine di opere sui robot, in particolare una che si chiama la Trilogia della Fondazione, Trilogia perché sono ovviamente tre volumi, anche se poi già all'epoca ne furono aggiunti altri tre, come si fa oggi con le saghe dei film, per rendere le cose più corpose. E Asimov addirittura si inventò una specie di legislazione per i robot. Sono le famose tre leggi della robotica che molti di voi magari avranno sentito nominare e che si ricorderanno. La prima legge della robotica è che i robot non devono fare del male agli uomini, quindi la macchina viene considerata come qualche cosa che deve essere di aiuto all'uomo naturalmente e non di danno. La seconda legge della robotica è che i robot devono eseguire gli ordini che vengono loro dati, perché ovviamente c'è già all'epoca il rischio, il pericolo che questi robot poi magari comincino a fare quello che vogliono loro e a non rendersi più utili agli uomini perché in qualche modo potrebbero acquistare loro stessi il potere. E la terza legge della robotica è che i robot non devono essere autolesionisti, non devono fare nemmeno del male a se stessi perché in fondo sono parte della proprietà degli uomini e quindi fare del male o rompere parti o interamente il meccanismo non farebbe ovviamente un danno all'uomo. In seguito poi Asimov si accorse che forse queste tre leggi erano un po' troppo ristrette e quindi bisognava aggiungere una legge numero zero ed era una legge che suona quasi come la prima, cioè che i robot non devono fare male all'uomo, ma è formulata in maniera più generale e questo è molto interessante oggi soprattutto che il mondo è globalizzato, cioè i robot non devono fare male all'umanità, che è una cosa molto diversa, che non significa andare contro un particolare individuo per esempio facendogli del male fisico, ma non andare a cambiare gli equilibri per l'appunto planetari o globali. Questo è più o meno quello che si faceva nella prima metà dello scorso secolo. E cosa è intervenuto nella seconda metà? Abbiamo già accennato prima, cioè l'arrivo del computer. Ora io non so quanti di voi potrebbe fare, a parte che io non vedo nulla, quindi non so nemmeno se ci siete, questo è un po' sempre il destino di coloro che parlano, magari al buio, tutti se ne sono già andati, annoiati e poi soltanto alla fine quando si accendono le luci non si scopre che effettivamente non c'era più nessuno. Ma dicevo, se facessimo un sondaggio tra di voi, oppure con la gente al di fuori, sarebbe interessante capire che cosa si pensa normalmente di chi sia stato l'inventore del computer. Io credo che la maggior parte della gente, forse non qui, che siete più ovviamente allertati a queste cose, a queste problematiche, ma fuori di qui, nella città di Torino e in genere anche nel mondo, si pensa che i computer siano l'invenzione, non si sa bene di chi, di due persone comunque, che sono ovviamente loro gli inventori, Bill Gates da una parte e Steve Jobs dall'altra. Invece in realtà non è affatto così, né Bill Gates né Steve Jobs hanno mai fatto nulla di inventivo dal punto di vista del progresso dei computer, meno che mai inventarli, si sono limitati, e non è una limitazione piccola ovviamente, si sono limitati a costruirli e a produrli in grande stile, a fare il mercato, diciamo così, dei computer. Prima abbiamo citato gli Agnelli, per esempio, la stessa cosa, anche Agnelli, ovviamente nemmeno Henry Ford, hanno inventato l'automobile, meno che mai hanno scoperto le leggi della termodinamica, semplicemente hanno costruito e invaso il mondo, in un caso di automobili e nell'altro caso dei computer. Chi è stato a inventare il computer? Beh, la cosa interessante è che, e qui veramente forse pochi lo sanno, a meno che non abbiate fatto informatico o qualche cosa legato a questo, il computer è stato inventato non nel Novecento, ma addirittura nell'Ottocento, verso metà del milleottocento, è stato inventato da un inglese che si chiamava Charles Babbage, un inglese interessante perché siamo nel metà dell'Ottocento, ovviamente l'elettronica non c'era, le leggi di Maxwell sono della seconda a metà dell'Ottocento, quelle che permettono poi di usare l'elettromagnetismo in maniera da formulare e da produrre e far diventare quello che oggi sono i computer elettronici. All'epoca c'erano però le macchine, quali macchine? Beh, macchine a vapore, abbiamo appena accennato alla termodinamica. E questo signor Charles Babbage si inventò il primo computer che era un computer a vapore. L'Inghilterra non seguì le sue anticipazioni, peccato perché l'Inghilterra avrebbe potuto diventare la prima potenza informatica mondiale a metà dell'Ottocento, non a metà del Novecento, dove poi non lo divenne in ogni caso perché fu in realtà l'America a diventarlo. E come gli venne l'idea di inventare una macchina calcolatrice? Attenzione, non sto parlando dei calcolatori come quelli che avevamo ogni tanto in tasca, le piccole macchine che facevano alcune operazioni. Un computer, come oggi viene chiamato, universale, in grado di fare tutti i calcoli che è possibile fare attraverso le macchine. Mi venne in mente, guardando, guarda caso, un'impresa industriale che era l'impresa della tessitura. C'erano questi telai, la tessitura era già stata automatizzata, aveva già fatto fuori, credo, molti di coloro che facevano i tessuti a mano con i telai, appunto come quelli che ancora si usano oggi, spesso lo si vede nel terzo mondo. E questi telai meccanici usavano che cosa? Beh, per fare delle tessiture che avessero dei disegni fatti con i fili, usavano delle schede perforate con dei buchi attraverso i quali uscivano degli aghi che venivano poi infilati con i fili di vari colori. Babbage vide questi telai, si chiamavano i telai Jacquard, dal nome di colui che li aveva usati e introdotti nell'industria, e disse, beh, questo potrebbe essere il modo in cui si possono implementare i programmi per la sua macchina calcolatrice a vapore. Ed è di lì che sono nate le schede perforate, che poi sono andate avanti per un secolo, ovviamente. Io ricordo che quando ero bambino ancora le vedevo, mio zio lavorava in una banca, e c'erano queste, si usava il Fortran all'epoca, con queste cartoline tutte bucate. Arrivavano da lontano, da un secolo prima. Il problema di Babbage è che appunto lui propose due tipi di macchine calcolatrici, o meglio, di calcolatori universali, che però ebbero poco successo, ma che erano avveniristici ed erano esattamente equivalenti a quelli che oggi noi usiamo nel nostro mercato. Quindi in realtà non è che abbiamo una tecnologia poi tanto moderna, è una tecnologia che ha 170 anni, forse anche di più. È interessante che c'è un collegamento qui con Torino, perché Babbage venne una volta invitato a Torino a un convegno, fece una conferenza e a prendere gli appunti c'era un professore del Politecnico, o meglio della scuola militare dell'epoca, un professore che si chiamava Menabrea, che poi fece carriera non soltanto come professore, ma anche come politico, divenne ministro di vari ministeri, alla fine della sua carriera divenne ministro degli esteri, i tempi sono cambiati, adesso non c'è bisogno né di essere professore universitario, né di arrivare al ministero degli esteri alla fine della carriera, ma si comincia di lì, e poi divenne addirittura presidente del Consiglio. Ed è tutta una storia che sarebbe bellissimo raccontare, perché poi questi appunti sono stati ritrovati qui nel palazzo vicino, nell'Accademia delle Scienze, ma prima erano stati trascritti da una signora che si chiamava Ada Lovelace, figlia del poeta Byron, che divenne la prima informatica, la prima programmatrice della storia, tutto questo a metà dell'Ottocento. Quindi il computer è qualcosa che risale a moltissimo tempo fa, però fu dimenticato, non entrò nel circolo delle idee che venivano usate, che vennero usate nella rivoluzione industriale, dovete essere riscoperto. E fu riscoperto nel 1936 da un ragazzo di 24 anni, che si chiamava Alan Turing, che è oggi considerato appunto il vero inventore del computer, che però riscoprì semplicemente ciò che Beb già aveva fatto, e solo in seguito si vende poi a sapere che già erano state fatte queste cose e che già c'era stato un precedente. Turing, che molti di voi conosceranno forse indirettamente, perché è stato protagonista di tanti film, per esempio un film che si chiamava Enigma, che aveva a che fare con la decrittazione dei codici nazisti, oppure un film recente che si chiama Il gioco dell'imitazione, che racconta un po' la sua vita tragica, perché lui poi morì a 42 anni, suicida per motivi che adesso non vi racconto. Ma poco prima di morire, nel 1950, Turing incominciò a sognare il sogno di cui oggi voi parlerete, cioè il sogno dell'intelligenza artificiale. Aveva tra le mani, per le mani, il progetto di un computer universale, l'Inghilterra perse per la seconda volta l'occasione di diventare la prima potenza informatica, non glielo fece costruire dopo la seconda guerra mondiale, e lo fecero poi appunto gli americani, ma insomma chi è causa del suo mal pianga a se stesso. E che cosa proponeva in questi articoli del 1950 Alan Turing? Beh, cercava di capire fino a che punto i computer avrebbero potuto andare. Erano nati come macchine calcolatrici per fare conti semplicemente, conti numerici. Ma che cosa avrebbero potuto fare, soprattutto cosa avrebbero potuto simulare? E Turing subito pensò ovviamente agli scacchi, disse magari potrebbero giocare a scacchi. All'epoca appunto il computer ancora non c'era, come macchina fisica, c'era solo l'idea. Lui scrisse un programmino per giocare a scacchi, giocò con un suo compagno, un suo collega di università, e lui fece la parte del computer, cioè seguiva semplicemente il programma che aveva scritto, perse in pochissime mosse, era solo l'inizio. Però quest'idea di giocare a scacchi attraverso il computer è stata uno dei primi momenti in cui si è pensato che il computer potesse fare cose diverse da quelle per le quali era stato pensato agli inizi. L'intelligenza artificiale ufficialmente nacque pochi anni dopo, nel 1956, a Dartmouth, in un famoso convegno in cui confluirono tutti coloro che poi sarebbero diventati i guru dell'intelligenza artificiale della seconda metà del Novecento. In particolare c'era un signore che si chiamava Herbert Simon, che qualcuno di voi avrà sentito nominare, un signore che arrivò all'intelligenza artificiale in una maniera interessante che può interessare anche voi oggi che discuterete di questi argomenti. Lui era un economista e scrisse nel 1949 un famoso saggio che si chiamava il comportamento amministrativo. L'idea sua era un'idea che i politici qui in sala forse potrebbero confermare o non vorranno confermare perché ovviamente non è bene tenerle segrete queste cose. E cioè il fatto che quando uno arriva in una carica politica amministrativa oppure anche all'interno di un'azienda, in un consiglio di amministrazione, eccetera, non si comporta secondo le proprie idee o secondo le proprie ideologie ma si comporta secondo le regole del ruolo che ricopre. Ed è per questo che i politici spesso sembrano dei volta gabbani perché magari sono in un ministero fanno e dicono delle cose poi passano in un altro ministero fanno e dicono cose che erano in contrario con quelle precedenti e noi che siamo dal di fuori pensiamo ingenuamente che semplicemente hanno cambiato idea. No, Simon ci spiega o ci spiegava all'epoca in realtà la maggior parte delle cose che vengono fatte quando uno ricopre un ruolo di responsabilità sono fatte perché si seguono delle regole implicite o esplicite che sono proprie del ruolo che si ricopre. Io ricordo che una volta avevo incontrato ogni tanto mi capitava soprattutto da Vespa quando si parlava di cose religiose di incontrare il senatore presidente Andreotti e una volta glielo ho chiesto questo fatto e lui ovviamente come si poteva immaginare disse ma no l'unico ruolo che si può immaginare di determinare attraverso regole meccaniche che era quello che aveva in mente Simon è il ruolo di quello che fa la fotocopiatrice o che fa le fotocopie e invece Simon pensava di no che dice poiché gli politici e gli amministratori seguono regole noi dovremmo semplicemente cercare di esplicitare queste regole scriverle in un programma e farci comandare dal programma cioè i primi secondo Simon a perdere il lavoro con l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale avrebbero dovuto essere i politici questo è molto interessante tra l'altro lui fu premiato perché non pensiate che fossero semplicemente idee balzane fu premiato col premio Nobel per l'economia non in quegli anni lì perché all'epoca non c'era ancora il premio ma negli anni 70 non appena fu introdotto e poi in seguito prese la medaglia Turing per l'informatica cioè l'analogo del premio Nobel per l'informatica perché propose appunto di sviluppare i computer in modo da poter realizzare il sogno che lui aveva sognato diciamo così in questo libro il comportamento amministrativo quindi abbiamo già parlato per esempio di giocare a scacchi di fare attività politica o decisionale comunque attraverso i computer agli inizi degli anni 60 un famoso informatico che si chiamava Weizenbaum che era appunto un ricercatore di intelligenza artificiale scrisse un programma un programmino di pochissime righe per simulare uno psicanalista addirittura uno psicanalista rogersiano molto semplice voi sapete come sono gli psicanalisti che si fanno pagare però in genere non fanno molto si siedono alla fine del lettino e vi lasciano parlare e ogni tanto devono intervenire quando voi vi fermate come mai l'idea della psicanalisi che quando uno si ferma perché c'è un blocco che ha fermato il flusso di parole che stavano uscendo dalla bocca e allora l'idea di Weizenbaum fu semplicemente di dire di lasciare che l'interlocutore dicesse che cosa voleva e quando si fermava di prendere le ultime parole gli ultimi sostantivi che erano stati usati nella frase conclusiva e di chiedergli parlami di questo per esempio uno parla 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 a un certo punto cita la mamma si ferma e dice parlami di tua mamma e quello ripartiva e così via e la cosa però ebbe un tale successo tra i pazienti e addirittura tra i colleghi di questo Weizenbaum che gli chiedevano di stare fuori dalla porta mentre loro dialogavano con lo psicanalista sullo schermo che lui capì che c'era un pericolo tremendo dell'intelligenza artificiale smisse di fare ricerca in quel campo e anzi divenne uno dei più agguerriti oppositori dell'intelligenza artificiale il programma dell'intelligenza artificiale che fu stilato nel convegno di Dartmouth era un programma che diceva nel giro di 5 o 10 anni il computer giocherà scacchi meglio dei campioni del mondo di scacchi e dimostrerà dei teoremi matematici che non sono mai stati dimostrati come mai queste due attività perché gli scacchi da una parte la matematica dall'altra vengono considerate venivano considerate come le attività più prettamente razionali e umane tutto il resto si poteva immaginare che il computer potesse farlo certo che poteva fare i conti come i ragionieri o come i commercialisti perché quelle sono cose che seguono regole abbastanza semplici ma giocare a scacchi fare la matematica addirittura questo no e in realtà i sogni erano un po' eccessivi ci vollero un po' più di anni non soltanto 10 ma una quarantina però nel 1996 come tutti avrete visto sui giornali il campione del mondo in carica Gary Kasparov perse prima una partita e poi un torneo a sei partite contro un computer che si chiamava Deep Blue e io l'ho incontrato tra l'altro varie volte Kasparov fa una diciamo così una formazione informatica e lui ancora oggi continua a dire che ma quello non era un computer che giocava di dietro dietro la stanza c'erano i maestri russi cattivi che gli davano le mosse cioè nemmeno il campione del mondo ha accettato il fatto che il computer avesse potuto giocare in una maniera tale soprattutto in una partita e fare certe mosse che secondo lui erano tipicamente umane a quel punto che cosa significa semplicemente che il computer è diventato umano è riuscito a emulare o perlomeno a simulare se non emulare proprio i processi mentali del giocatore di scacchi almeno a simulare i risultati delle partite e a far diventare appunto il campione del mondo più debole di un programma stesso oggi con l'intelligenza artificiale si fa di tutto ovviamente lo sapete meglio di me alcune cose sono sorprendenti per esempio si sono fatte musiche scritte col computer alla maniera di ormai gli informatici riescono a simulare le note che i compositori fanno con il loro stile e io avevo un collega tra l'altro che faceva questo che mi diceva ecco qui un pezzo come vuoi che te lo suoni e dice alla Chopin ok ti metto i parametri di Chopin e veniva fuori effettivamente così agli inizi le cose erano rudimentali ormai recentemente si sono talmente affinate che si sono proposte delle musiche a esperti a critici musicali e a musicisti stessi chiedendo loro di distinguere quali musiche erano state scritte da umani e quali erano invece state scritte da computer e la cosa diventa semplicemente casuale non riescono a centrarla cioè diventa il 50% a volte sì e a volte no quindi ormai le macchine effettivamente riescono a simulare molto bene molte attività che noi sappiamo che in realtà erano tipiche degli uomini vedo che il mio tempo sta per scadere fortunatamente perché altrimenti avrei dovuto parlare della matematica e questo è più imparazzante ovviamente per un matematico finché si parla dei musicisti e dei psicanalisti va bene ma i matematici che succede? beh il computer ormai ha dimostrato dei teoremi che erano aperti come congetture che i matematici non erano mai riusciti a dimostrare oggi si pensa che in realtà il vero approccio e credo che di questo forse poi voi dovreste parlare e che parlerete sarebbe quello non di affidare completamente al computer una intera impresa per esempio la dimostrazione di un teorema bensì di fare quello che viene chiamato nel gergo l'interazione uomo-macchina usare le macchine però con il supporto di un uomo che possa metterci qualche cosa che effettivamente diventa difficile programmare l'esempio diciamo così archetipico e su questo chiudo di questa interazione uomo-macchina è quello che quest'anno stiamo festeggiando nel suo cinquantenario cioè l'impresa di conquista della luna il primo allunaggio molti di voi se lo ricorderanno io me lo ricordo all'epoca avevo 19 anni nel luglio del 69 credo 20-21 luglio la notte quando l'Apollo 11 scende sulla superficie lunare e c'è il comandante Armstrong che poi diviene il primo uomo a mettere piede sulla luna che sta comandando che cosa stava facendo il comandante Armstrong niente perché in realtà tutto era perfettamente programmato e si seguivano i passi che il computer diceva di fare questo nell'astronautica è anzitutto obbligatorio quando si parte col razzo perché la forza l'accelerazione è così forte che gli astronauti non potrebbero far nulla quindi quello è tutto programmato ma anche le fasi della discesa erano programmate se non che guardando attraverso gli oblò Armstrong si accorse che si stava andando verso un posto dove c'erano dei massi che ovviamente non si erano riusciti a vedere all'epoca non c'erano satelliti attorno alla luna che prendessero le immagini con un'alta risoluzione e che quindi ci sarebbero stati dei problemi e forse anche addirittura un allunaggio non perfetto allora lui prese per un momento i comandi e spostò di qualche metro la navicella ecco questo dovrebbe essere la metafora che può guidare l'idea che noi ci facciamo dell'uso del computer nel futuro affidare al computer tutto ciò che esso può fare meglio di noi soprattutto quando queste cose hanno a che fare con lunghi ragionamenti lunghi calcoli e cose che ovviamente si possono in qualche modo formalizzare però stare sempre attenti e cercare di evitare cose che a volte potrebbero provocare dei disastri disastri che sono già avvenuti voi sapete che almeno uno dei crack delle borse mondiali è stato dovuto al fatto che ormai si fanno transazioni con programmi per giocare sui tempi sempre più brevi e ad un certo punto il computer in quel caso aveva cominciato una corsa a ribasso a vendere le azioni che provocò appunto un crollo della borsa un altro caso tipico è quello di un satellite che era stato fatto per metà dagli Stati Uniti e per metà dall'Europa e lo si mandò in orbita e ci si era dimenticati che in Europa si usano i metri e in America si usano le yard e messe naturalmente insieme questi due programmi fecero ovviamente un gran pasticcio quindi questo è il ruolo ormai dell'uomo cosa si può fare? secondo me è ovvio bisogna ormai lasciare che le macchine prendano il sopravvento che facciano loro i lavori il sogno potrebbe essere quello di un futuro in cui gli uomini non lavorano più oppure lavorano pochissimo era il sogno che si faceva negli anni 70 e che vi diceva oggi De Masi in realtà aveva già fatto Keynes lavorare meno o lavorare tutti arrivare a lavorare pochissimo e ovviamente il vero problema è ma chi produce le macchine ma le macchine di chi sono è certo che se le macchine rimangono nelle mani dei privati il sogno diventa un incubo perché allora si sarebbe una concentrazione enorme di potere economico nelle mani di poche persone che posseggono le macchine e tutti gli altri diventerebbero semplicemente degli schiavi ma dall'altra parte invece si potrebbe immaginare che le macchine fossero o saranno di proprietà statale invece allora in quel caso potrebbe essere lo Stato che attraverso una pianificazione produce attraverso le macchine ciò di cui gli uomini hanno bisogno e effettivamente distribuisce quello che oggi diciamo così in nuce si può vedere nel reddito di cittadinanza ma che un giorno sarebbe semplicemente distribuisce i dividendi alla società di cui tutti noi facciamo parte ma il tempo mio è scaduto da tempo quindi vi ringrazio dell'attenzione e buon lavoro per le vostre discussioni grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti